Buonasera, in studio Massimo Bonella per il notiziario di Radio Saiut TV del fine settimana in sostituzione al collega Rosario Moreno. Quella alla mafia è una vera e propria guerra che non deve conoscere pause, dice il ministro della giustizia Bonafede in occasione del 28esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Contro il peggiore dei mali occorre la lotta alla corruzione, al voto di scambio politico mafioso, va difeso il regime detentivo del 41 bis e ricercata la verità sulle stragi e i responsabili non ancora individuati, dice così Bonafede. Prosegue dicendo è una guerra da portare avanti tutti insieme, politici, magistrati, avvocati, giornalisti, docenti e cittadini. Stromboli. C'è stato un evento esplosivo di forte intensità. Due sono stati boati dal vulcano di Stromboli nettamente avvertiti dalla popolazione dell'isola, tanta paura ma non sono stati registrati danni. Evento esplosivo molto forte, al di sopra dell'attività ordinaria e classificabile come evento esplosivo maggiore, spiega il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Firenze. Esplosione analoga un anno fa che provocò la morte di un escursionista. Covid-19. Sono 249 i nuovi contagiati da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto a venerdì. In Lombardia 88 nuovi casi e 10 morti in 24 ore. Ed ora alcune brevi locali dal nord-est d'Italia. Venezia. Fenice progetto didattico online con sostegno generali. Padova. Ateneo Padova. Piano 15 milioni per i studenti. Rettore. Alta formazione. Non è un lusso ma una scelta strategica. Tenta di abusare una donna in centro a Venezia. È stato denunciato. Sempre a Venezia parte il servizio consegna a domicilio, libri e biblioteche. È stata una idea del comune per gli anziani e le persone con disabilità. Autonomia. D'Inca. Coronavirus. Ha sospeso la legge quadro. Ed ora alcune brevi dal vicino Friuli, Venezia e Giulia. Porti. Trieste. Vince due progetti Unione Europea cofinanziati. Programma CEF. Il porto di Trieste. Si è aggiudicato due nuovi progetti europei cofinanziati dal programma CEF. Connecting Europe Facility. Barca contro una briccola. Si registra un ferito gravissimo. È successo sul fiume Natissa che scorre davanti a Quileia. Migranti fermati. 32 irregolari. Ammassati in un camper. Infine, nella nostra rassegna stampa del fine settimana di Radio Science TV, ricordiamo la fortescossa tellurica avvertita anche in Veneto, che ha avuto epicentro a 17 km dai comuni di Taipana e Pulferro in provincia di Udine. Il manitudo è stato di 4.3 alle ore 4.50. Ed è tutto per questa rassegna stampa, notiziario di Radio Science TV, in sostituzione a Rosario Moreno, che ritornerà domani mattina insieme anche alle corrispondenze di Sabrina Ciccotti. Grazie per la vostra cortese. Attenzione. Grazie per la vostra cortese.